Dire borsa direi che è riduttiva e deviante, io direi pochette, la scatola magica, della scatola della bellezza, della fantasia e soprattutto del grande scelte. Volevo ringraziare le mie ospiti, Natascia Costina e la contessa Garavaglia ovviamente. Stasera presentiamo le borse di Natascia, Charmant Folli. La poesia viene dall'emozione che mi dà la creazione di questa borsa. Cerco di rappresentare una certa situazione o certe idee in ogni cosa. Con la buona idea io non ce la faccio non farla. Praticamente io sono pronta a tutto, posso fare 24 ore su 24 per realizzarla. Indossare la genialità. La genialità non si ferma al cervello ma si ferma all'espressione che può partire dai piedi fino ad arrivare alla testa. Quindi avere un bel paio di scarpe secondo me è fondamentale, come anche avere un cappellino concettuale perché esalta quello che è la figura umana. La miaota è una famiglia di Ghiardeggio vivere e ben viacere e ben piacere. Per un barbiere Network ed è di qualità. Di qualità! La venire è un Beerà, لا, ma decreto, bravo. La, 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 la. La, 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 la. si svilupperà sulla testa, sulle scarpe, però l'importante è l'idea che sono dei manufatti assimilati e tenuti insieme dalla passione.